Sì, ciao a tutti ragazzi da Studio Camurrina, ben ritrovati. Mi trovo nel mio laboratorio, sono le 5.30 di pomeriggio e sto quasi per chiudere. Stamattina ho aperto intorno alle 8 del mattino, sono arrivato di nuovo a Palermo in Sicilia con l'aereo da Atene intorno alle 7.30 del mattino partendo da Atene alle 6.30. Vi ricordo che per il volo ci vuole 2 ore, in questo caso vi ricordo che la Grecia ha un'ora indietro rispetto all'Italia, quindi se sono partito dalla Grecia alle 6.30, in Italia erano le 5.30 e sono arrivato in Italia alle 7.30, quindi con 2 ore di volo. Un'esperienza sicuramente mozzafiato, la Grecia è ricca di arte, il popolo, la popolazione esprime una libertà in quasi tutto quello che fa, anche nel mangiare un gelato, nel passeggiare con gli amici, perché proprio mentre magari passeggia, si ritrova a passeggiare con la bellezza dei templi, con queste pietre secolari che sono un po' ovunque, sicuramente mi ha stupito il colore di questa città, la serenità, soprattutto l'economia, proprio una, diciamo, nulla di così costoso in giro. Vi ricordo a tutti quelli che stanno per prendere un aereo, che Ryanair ha aggiunto il costo del bagaglio alla fine dell'acquisto del biglietto. Dal 5 maggio vi ricordo che in aeroporto bisogna fare il check-in della valigia prima di andare al gate. Ha un limite di capienza, ormai, l'aereo di 90 bagaglie trollei. Al 91esimo, subito scatta, se non hai fatto il check-in prima del gate, scatta subito un'amore di 25 euro a bagaglio. Quindi state molto attenti, vi darò delle nozioni un po' più pratiche al prossimo video. Un saluto da Studio Camurrina, a domani, ciao!